Preparati perché dal 22 ottobre Halloween sarà ovunque Una settimana con gli episodi e i film più paurosi Una settimana intera E poi tieniti pronto perché il 31 ottobre arriva la maratona più mostruosa di sempre Con l'anteprima speciale della nuova serie Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles Halloween da paura Da lunedì 22 ottobre alle 20.20 Solo su Nickelodeon